Buonasera, siamo rientrati dopo una settimana che ci ha visto impegnati su un altro impegno che abbiamo avuto con l'Unione Europea, quindi non sono potuto essere qui con voi a dispondere le vostre domande il lunedì della scorsa settimana, poi vi diremo e vi dirò qualcosa in più rispetto a quell'appuntamento per noi non rinviabile, quindi perciò abbiamo dovuto saltare una settimana e l'incontro che c'è stato in sede di Commissione Europea, in particolare con il nostro vicepresidente, il vicepresidente italiano Tajani, con alcuni commissari, a partire dal commissario Hann, per il tema che in parte interessa l'intera collettività campana, che significa come utilizzare al meglio le risorse comunitarie e recuperare i ritardi che la Regione Campania aveva dal 2008 in poi. Intanto saluto Yolanda Chiuchiolo, che è una giornalista di Cronache di Napoli, redattrice Cronache di Napoli e della Corriere di Caserta, che è qui oggi con noi. Volevo iniziare, prima di sottopormi alle domande come diritto alle vostre domande, per darvi un'informazione, una notizia di pochi minuti fa. Abbiamo sottoscritto un documento comune questa mattina, questo pomeriggio, con le forze sociali, in particolare con CGL, CISL e UIL, quindi con tutte le forze sindacali che hanno sottoscritto insieme a Confindustria l'accordo interconfederale di luglio. Che cos'è questo accordo? Intanto questi sono i firmatari, quindi non ci sono altre forze sociali, non ci sono altre forze sindacali, perché questi sono i firmatari dell'accordo nazionale. Cosa prevede questo accordo firmato a Roma? Prevede, tra le sfide, quella degli accordi territoriali, che significa come si affrontano le varie situazioni di sviluppo o anche di crisi, noi oggi stiamo vivendo prevalentemente le situazioni di crisi aziendale, non tanto quelle di sviluppo, ma il tema riguarderà entrambe le questioni, che CGL, CISL e Confindustria hanno voluto firmare a Roma come accordo generale interconfederale. Però questo porre una sfida a noi. Cosa fanno il territorio? Proprio perché l'accordo è territoriale. Cosa fanno i vari territori, le varie regioni, ma questo dovrà essere poi esteso anche agli altri enti territoriali. Cosa possiamo mettere noi come istituzione locale? A sostegno, rispettando pienamente l'autonomia dell'accordo firmato a Roma, anche delle parti che l'hanno firmato, quindi questo vale per i singoli sindacati, CGL e CISL e per Confindustria. Ma quello che possiamo fare noi come Campania, per creare quelle migliori condizioni perché gli accordi territoriali possano, da una parte, affrontare le situazioni di crisi e risolverle. Io ho avuto modo di ricordare in questi giorni il modello FIAT. Sul modello FIAT non tutti sono stati d'accordo, però io mi auguro che su tutte le prossime intese, affrontando le grandi crisi industriali nazionali, ma anche quelle che possono nascere localmente, ci sia la possibilità e la capacità delle intere forze sindacali e sociali di affrontarle insieme agli enti locali, insieme, comunemente, condividendo un impianto di programmazione e soprattutto le risposte. Sulla FIAT si è risolta una crisi, fra qualche giorno, qualche settimana inizierà la produzione, si inizieranno a riassumere le persone, i lavoratori, quindi questo dimostra che con una buona azione fatta dalla Regione, dal Governo, dalla Regione, dalle forze sociali, si è raggiunto un obiettivo. Affrontiamolo insieme, comunemente, io sono particolarmente lieto che questo lavoro si possa iniziare a fare con l'unità sindacale, perché è essenziale per lavorare meglio nel futuro, però tenendo presente che però l'obiettivo deve essere quello di realizzare, di costruire percorsi che siano poi funzionali a rilanciare le imprese, a garantire i livelli occupazionali. Voglio solo citare, poi veramente, ma credo che era opportuno dare questa notizia, perché è una notizia importante, noi abbiamo chiamato contratto Campania, perché è un modo per andare a definire quali sono i livelli di impegno comune, poi potremo su alcune questioni essere d'accordo, su altre dovremo ridefinire accordi specifici territoriali, coinvolgeremo soprattutto gli enti locali per la parte istituzionale in questo lavoro. Il lavoro significa che mettiamo in campo quelle azioni, che si fanno come utilizzare bene le risorse, come finalizzare anche i fondi europei o anche i FAS, non solo per le opere infrastrutturali, ma per guidare eventualmente piane di ottimizzazione, o come si è fatto sul Fondo Sociale Europeo nei momenti di crisi, intervenire su dove serve intervenire, quindi non solo sulle prospettive strategiche, ma affrontare la crisi. Poi abbiamo elencato le partite, che sono partite di carattere generale, che sono il settore trasporti, il settore ambiente, il settore della forestazione, delle società miste, che è un tema che riguarda le istituzioni locali e riguarda chiaramente i lavoratori. E poi, rilanciando le aree a burocrazia zero, tutto il sistema degli incentivi, che forse dobbiamo sempre di più finalizzare in maniera selettiva su particolari aree, su particolari settori, facendo delle scelte strategiche, senza parcellizzare gli incentivi, soprattutto senza moltiplicarli, se no diventano sussidi. E qui non aggiungo altro legato al decentramento amministrativo, a tante altre iniziative, nel settore del lavoro era presente l'assessore Nappi, con l'assessore Nappi, con le forze sociali, abbiamo rilanciato il piano generale di rapporti su tutto il tema legato al piano lavoro, alle politiche attive del lavoro, al tirocinio, a tante iniziative che sono rivolte, saranno rivolte ai giovani, ai tanti giovani che abbiamo noi, soprattutto in una fascia di età, che devono essere riutilizzati, utilizzati al mercato del lavoro, se no il rischio è che ne rimangano fuori per troppo tempo, per andarli a definire senza intermediazioni, come alla vecchia maniera, che c'erano intermediari burocratici, centri di formazione, dove il guadagno era tutto lì, le risorse venivano legate a questi aspetti autoreferenziali, non erano rivolte a chi dovevano essere rivolto, cioè al lavoratore, invece collegando in maniera diretta sistema territoriale, imprese e mondo del lavoro con politiche di sostegno, in particolare sul tirocinio, e andare a definire quelle qualifiche professionali che servono al mercato del lavoro, quindi che sono strettamente utili al mercato del lavoro. Vi ho voluto dare questa notizia perché la ritengo un passo importante, non è il solo, aggiungo che insieme a questo contratto Campania, come è noto, nei prossimi giorni si discuterà con tutte le forze sociali, quindi saranno presenti anche le altre sigle sindacali, saranno presenti anche il mondo della Confcommercio, il mondo delle piccole mesi in mese, dell'associazionismo, che è unito in un coordinamento che è parte essenziale di questo lavoro che dobbiamo fare, dove invece poi inizieremo a discutere con un documento che è stato proposto da queste forze sociali e forze economiche, il mondo dell'impresa, alla Regione, che discuteremo chiaramente affrontando gli singoli argomenti. L'ho fatto forse troppo lunga, ma era credo, Yolanda, non so se era utile dare questa notizia. Eccomi a te, allora, vediamo quali sono le nostre domande. Con la prima domanda che le è posta da Ciro da Portici, il problema del lavoro evidentemente è sentito, per cui Ciro le chiede, Presidente, uno dei provvedimenti che il Governo pare voler adottare è il pensionamento di lavoratori a 67 anni. La Lega, come sempre, appare contraria. Qual è il suo pensiero in merito a ciò e come, secondo lei, si risolverà la questione? Io ho avuto modo di esprimere la posizione mia personale e non tanto come Presidente della Regione, perché è evidente che quando ci sono delle decisioni politiche dire se sei d'accordo o meno su un'opzione non è che puoi dire lo faccio in qualità di Presidente della Regione, però mi sono sentita di espormi qualche mese fa quando il Governo iniziava a discutere tra le possibili manovre da fare, quella di guardare all'inalzamento dell'età pensionabile, che non significa, precisiamolo, toccare i diritti acquisiti. Quindi noi abbiamo una serie di diritti acquisiti, quelli non possono essere toccati. Però in prospettiva, come ha fatto la Germania, come sta facendo l'Europa, tra l'altro quei 67 anni che sono stati indicati nella domanda, sono il limite che pone l'Europa in termini di obiettivo, ma che potrebbe proporre con una decisione a breve, non solo come obiettivo, ma anche come, non dico prescrizione, ma come orientamento in maniera un po' più diretto e severo agli Stati. Cioè gli Stati che non sono su quella linea verrebbero giudicati sul piano economico, non dico a rischio, ma insomma hanno un giudizio differenziato. Quindi tanto è una decisione europea, sarebbe opportuna adottarla come Paese, che significa andiamo tutti in pensione più tardi. E tra l'altro c'è oggi parlare di 67 anni, tra l'altro non sarebbe domani mattina, ma sarebbe nei prossimi anni, quindi mano a mano in alzarla. Se oggi pensiamo a tanti lavoratori che sono in grado, certo non parliamo dei lavori usuranti, non parliamo di particolari lavori dove dopo una certa età sicuramente non si può chiedere di più, ma ci sono tanti lavori di ufficio, tanti tanti lavori che si possono svolgere in 67 anni. Questo significa creare le condizioni, non solo di pensare alle future generazioni in termini di sostenibilità della curva delle pensioni, perché altrimenti noi avremo un problema sulle pensioni delle future generazioni, quindi noi dobbiamo pensare alle future generazioni. E nello stesso tempo è un falso problema quello che si dicono, non si liberano posti di lavoro. In parte è così, ma in un'altra parte non è così, perché molto spesso il lavoratore, il baby pensionato, non è che smette di lavorare, prende la pensione e in molti casi, soprattutto in una parte del paese, devo dire, un po' meno nel mezzogiorno, ma in generale, tende a occupare un lavoro che non è un lavoro, diciamo, stabile o comunque non è un lavoro retribuito nella forma classica, ma comunque copre un pezzo di mercato del lavoro, che invece potrebbe essere liberato per i giovani, quindi non solo una maggiore capacità di poter mettere giovani nel mercato del lavoro, ma allo stesso tempo di rendere sostenibile la curva delle pensioni e permettere ai giovani di poter avere una pensione sostenibile.